Buongiorno e ben ritrovati sul mio canale. Il tema Inter Rock Tree nelle ultime settimane spesso tiene banco con alcuni articoli di stampa, alcune indiscrezioni, alcune informazioni che vengono riferite appunto dai giornalisti e da chi si occupa della vicenda, più vicino rispetto anche ad esempio al sottoscritto. Io vivo a Berlino e quindi non sono ad Appiano Gentile quotidianamente. Quindi stiamo a quello che ci viene detto ma voglio fare in questo video una sorta di se fossi interista, cioè il punto di vista che personalmente avrei o quello che io auspicherei se io fossi interista rispetto alla vicenda appunto del debito che l'Inter ha con il fondo OCTRI e che deve essere restituito il 20 maggio prossimo. Ben ritrovati sul mio canale, vi ricordo naturalmente FootballITX, la mia newsletter di sport business di cui trovate il link in descrizione. Esce ogni sabato mattina, restiamo in contatto anche attraverso quella e poi ovviamente rispetto al canale like al video se vi è piaciuto, iscrizione se non l'avete ancora fatta e chiaramente i commenti e la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Ecco a proposito di Inter OCTRI ho voluto proprio titolare questo video se fossi interista perché secondo me è interessante andare a capire perché ogni volta nel dibattito social si vede come i tifosi fanno anche il tifo per le soluzioni o per le cose che leggono, come e secondo me c'è una visione sbagliata di quello che poi alla fine è il ruolo del giornalista, sembra che se il giornalista scrive una cosa o scrive un'altra la realtà cambi, in realtà la realtà secondo me dei fatti è sempre quella ed è molto chiara e siamo di fronte chiaramente ad un bivio. L'Inter potrebbe continuare con Suning se ci sarà un accordo sul rinnovo di quel debito tra Inter e Suning il debito, però è chiaramente ad oggi per gli elementi che abbiamo a disposizione è veramente una cosa lunare pensare che questo possa accadere e poi ci sono gli due scenari rinnovo oppure passaggio della società direttamente a OCTRI perché appunto Suning, Zhang non sarebbe in grado di far fronte ai debiti. Ho già detto in altri video, Zhang si trova oggi di fatto nella stessa identica condizione in cui si trovò Yongong Li qualche anno fa, però e questo secondo me è molto importante perché poi anche leggo i vostri commenti ma vi sfugge sempre secondo me un aspetto, nemmeno su Yongong Li ci fu alcuna indagine preventiva rispetto al momento in cui poi Yongong Li risultò essere inadempiente. Questo è il punto ed è il punto chiaro e poi da lì può succedere di tutto. Ma torniamo a bomba del ragionamento. Se fossi interista io onestamente auspicherei che dal 20 maggio in poi l'Inter passasse in una nuova era a OCTRI. E lo dico perché capisco chiaramente che l'Inter oggi ha una sua struttura, ha una sua solidità anche dal punto di vista tecnico, una capacità del management di creare una squadra e che ha fatto una grande squadra in quest'ultima stagione, ma la solidità patrimoniale del proprietario di una squadra di calcio non è un dato secondario. Lo vediamo nella Juventus che negli ultimi anni ha potuto, grazie alla solidità del suo proprietario, fare una serie di aumenti di capitale, altrimenti sarebbe in situazione molto grave, molto più grave di quella in cui effettivamente poi si è trovata. L'Inter ha dovuto diluire, rallentare tutto, è riuscita a tenere, e qui davvero è straordinario il lavoro della dirigenza, del direttore sportivo e del direttore generale, di quello che sono riusciti a fare, perché quest'anno l'Inter sta facendo un campionato fantastico dal punto di vista dei risultati, ma poi c'è sempre l'idea di prospettiva. Nell'idea di prospettiva un tifoso non può non pensare per il bene della squadra che ci sia un proprietario capace di sostenere investimenti, di mettere capitale nella squadra quando serve, di poter pianificare, di intervenire sul mercato e poi sì di programmare il lato aziendale con l'aumento dei ricavi, eccetera, eccetera. Quindi, fossi interista, il mio primo auspicio sarebbe quello che a fine maggio il club passasse in mano Oktri, che peraltro non è un fondo che non conosce il calcio, anche se mi pare del tutto evidente che Oktri vuole essere un finanziatore del calcio, non ha l'intenzione di entrare, questo perlomeno quello che è la storia fino ad oggi di Oktri, attivamente nella gestione di un club. E quindi l'impressione è che i tempi possano essere brevi per poi una rivendita, anche perché ho come l'impressione, e questo lo dico con cognizione di quel che dico, che proprio la presenza oggi di Oktri tenga in piedi la situazione. Cosa voglio dire? Se Oktri dovesse rinnovare, l'unica condizione vera che mi farebbe, per così dire, dare una ragione del perché Oktri vuole dare, non prendersi il club, ma dargli continuità, è per cristallizzare una situazione che tutto sommato lato sportivo sta funzionando e lato economico finanziario vede i conti in miglioramento. Se io sono il creditore, il credito è relativo se ho poi in mano il pegno e posso portare a casa il club, perché il punto secondo me è quello, cioè un eventuale rinnovo della situazione debitoria significherebbe una sostanziale approvazione di Oktri di quello che sta già succedendo dentro il club, quindi a prescindere da quelle che sono le altre vicende. Oppure a quel punto Oktri potrebbe fare all-in, ma visto come si comporta Oktri negli investimenti che fa nel calcio, si dovrebbe andare in maniera molto più accelerata verso una cessione e forse oggi non c'è tutta questa, per così dire, richiesta di acquisto del club. Ecco, questa è, anche se so che girano le voci, ma mi sembrano, mi paiono del tutto infondate, e su questo vedremo, di possibili accordi con fondi che possono entrare nel club subito dopo, alcuni addirittura che sarebbero già fatti, ma questa la leggo da anni, al 30 luglio è già deciso che entrerà Aramco, il 30 luglio è già tutto deciso, poi accade poco o nulla. E questa è la prima cosa, quindi il mio auspicio sarebbe che Oktri prendesse in mano il club il più alla svelta possibile e che si accelerasse verso il passaggio ad un'altra società. Società dal punto di vista della proprietà, perché poi non vuol dire, la nuova proprietà, smantellare un impianto sportivo che funziona. Anche perché, e qui ci sono due valutazioni che faccio in conclusione, la prima è questa, i fondi nel calcio, al di là di quello che si può dire, non possono agire in maniera predatoria. Cosa significa? Spesso i fondi nell'economia reale entrano in un'azienda, vedono cosa funziona e cosa non funziona, vendono i rami d'azienda che non funzionano, e poi sistemano il resto, tagliano, tagliano i costi, ridimensionano e poi vendono, e quindi in questo modo realizzano da una parte nell'altra, con le dismissioni, i tagli dei costi, l'accessione. Nel calcio questa cosa non la puoi fare, non puoi vendere il lautario, i barella, i bastoni per realizzare e avere i soldi per dare forma e struttura e rivendere, perché in questo modo vai a depauperare il valore della società, in questo modo la declassi dal punto di vista della capacità di stare sul mercato. C'è la posizione dei giocatori che è molto particolare in questo senso. Ecco, quindi il fondo predatore nel calcio non può esistere, soprattutto non può esistere in società così grandi, con esborsi necessari così grandi. Questa è la prima cosa. La seconda riguarda i risultati. Oggi è giusto che tutti i tifosi interisti a breve vadano a festeggiare la seconda stella, il ventesimo Scudetto, una stagione dominata in Italia. Ma è anche giusto dire che la potenzialità di questa Inter negli ultimi quattro anni era quella di un filotto di Scudetti. E questa cosa, se non è successa, non è successa, perché al di là della buona gestione finanziaria in miglioramento, economica e sportiva del club, la realtà è che questa squadra e questo club era un club che necessitava di nuove risorse e che l'attuale proprietà, quelle nuove risorse, non le può garantire. E allora è bene passare oltre, perché se tutti gli anni la regola è che devi vendere il migliore o i due migliori giocatori, puoi resistere finché vuoi. Ricordiamo che l'Inter in campo quest'anno ha mandato la squadra come media di età più vecchia della Serie A, quindi una squadra efficacissima, efficientissima nel breve, ma poi che vince a 91 con Conte, scende a 84, scende a 70 e poi ritorna alla grande. È un contesto tipico di una squadra, di un club, che non riesce a dare la grande continuità oltre la stagione, le due stagioni, proprio perché c'è un contesto che non le permette di programmare nel medio e nel lungo periodo. Ecco, per questo, se fosse interista, io auspicherei che fosse Oktri, a breve, a prendere in mano il club. E, sempre se fossi interista, mi darei la spiegazione di una scelta rispetto alla continuità, quindi Oktri che rinnova. L'unica spiegazione che riuscirei a darmi è una sostanziale approvazione di quello che sta facendo il management sportivo ed economico-finanziario dal punto di vista del risanamento per accelerare in un momento di mercato dove eventualmente apparissero possibili compratori. Questo è quello che credo e che penso e ve l'ho detto in questo video. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e ci vediamo presto. Ciao!